Alla love, ciao belli, ciao belle, ora ci, ora ci, ciao, ciao, ciao Ciao Allora, Flora Stasera Stasera, stasera ti porto con me Dunque, vi volevo far vedere Questi benedetti espansori che io ho pagato 2,20 euro Questi sono così, di legnetto A parte me le devo allargare a sto orecchio perché a me sono troppo piccini E poi questi, sono una figata così, bianchi e rosa Queste sono stone E queste sono la balda No, la balda è la balda, quindi è l'ubalda e l'olobrigida Cioè, lo vedete cosa non sono? Io ho paura di questa Queste sono due armi Allora, dunque, siccome oggi sono felice perché Babbo è tornato a casa Quindi la mia gioia è a padella E ho la camera libera perché Filippo non c'è E' in viaggio il nostro amato ragazzuolo che gira come un pazzo E fa bene perché quando comincerò a lavorare poi vedrai non gira un cavolo Comunque, finché non hai le ferie non giri Scherzerà, fa bene a godere adesso E visto che comunque avevo voglia di girare anche perché sono truccata da ora Ve l'ho detto, ho fatto questo trucco che non è un trucco, ho soltanto le ciglia finte Quelle da Ebay da un euro e dieci Un euro e dieci neanche due Un euro e dieci E la palette da due euro che è questa La pensavo Un po' più grande Ma in realtà è piccola Ma è molto scrivente E secondo me questa Questa è la dimensione adattissima per portare in viaggio E c'è praticamente quasi tutti i colori Cioè scusate la svolta Tutta plastica ma strascrivete E vi vorrei fare un piccolo haul Piccolo, una minchia Perché è enorme E voi non avete davvero tanta roba c'è da farvi vedere Perché all'incontro mi sono comprata la crema di Victoria's Secret Che è qualcosa di divino E alla Sephora glielo ho dato di becca illuminante Comunque un giorno me le farò bene Però oggi voglio fare sto video benedetto di queste domande Perché altrimenti non lo farò mai Visto che oramai è un po' che ho messo le domande Allora Cercherò di rispondere naturalmente Allora Sinceramente non lo dico neanche Perché tanto lo sapete che Più sincera di me a sto punto sul tubo non ci sta No? Ho visto qualcuno che ha fatto un video su Follettina Naturalmente una importante Sinceramente Secondo me è stata anche parecchio furba A fare quel video Nel senso È stata forte Perché Ha notato che Follettina Vi sta Perché a me Anzi Sono io che l'ho sfruttata Per fare due visualizzazioni In più In quel video che vi sto per mettere Quindi Che la nostra Follettina Ce lo sta a tirare Incappoccia Incaffoccia Incazzoccia A tutti Quindi Guardatevi il video della diva Insomma Io lo sapete Non ti seguo la diva Ma quando Appunto Stavo guardando tutti i video Un po' relativi a questa cosa Perché mi dovevo informare Basta Ne abbiamo parlato anche troppo Però furba la nostra ragazza Allora Veniamo al succo di questa cosa Vi cercherò di essere più Veloce possibile Perché sono 75 domande 75 E quindi dopo 75 domande Allora innanzitutto Aspettate un momento Che mi do una matita sotto gli occhi Qua Quindi cominciamo Allora Ci potevo ora Avevo fermato Potevo entrare Nel coso E farla poco lunga Invece ora Ci devo pure entrare Cominciamo Allora Cercherò di rispondere Il più possibile Ma naturalmente Bimbe So 76 domande Bella cosa mi piace Allora Vivi Vivi La mia domanda è Se potessi tornare indietro Nel tempo E dare un consiglio A te stessa da giovane Quale consiglio ti daresti? Non c'è spazio nel telefono? Ma Cristo Allora Quale consiglio mi darei? La cosa è difficile Perché Perché Camilla Non ha mai seguito consigli A me Consigli Me ne sono stati dati Molti Anche perché Avevo degli amici Che comunque già Allora Avevano un certo tipo Di vita E uno stile di vita Particolare Quindi comunque Dei consigli Mi erano già stati dati Non mi regge Il tempo del telefono Ma che cazzo Ho provato a cancellare Un po' di foto Ma non c'è Non c'è Spazio Devo invertire i telefoni Cristo No se ce la facciamo Ho invertito i telefoni Praticamente Ho preso quello Della mia mamma Che usavo per leggere Allora Connessione Internet Assente Comunque Mi sono sempre Stati dati Dei consigli Perché comunque Persone che fanno Una determinata vita Come Intendo io Dei consigli Comunque Ti vengono dati Il mio problema È che forse Non ho mai Ascoltato i consigli Questa è la cosa Peggiore Perché Perché Sono sempre stata Una grandissima Testarda Sono sempre stata Una persona Che comunque Le cose Le cose Le doveva provare Sua pelle Cioè Io Non lo so Sono sempre Stata molto Sì Testarda Ho sempre Comunque Fatto Quello che La mia testa Mi reputava Giusto Anche se Per l'appunto Sempre bene Accettare i consigli Il quale consigliore È accettato Che Comunque Quando si è giovani La testa Va in un modo Quando sono a certetà Le cose Cominciano un po' A cambiare E purtroppo Si rischia Veramente Quando siamo giovani Poi di Fare degli errori Che saranno Irrecuperabili Poi da grandi Non Irrecuperabili Perché comunque Irrecuperabile È soltanto la morte Però ragazzi Comunque sia Ci sono delle scelte Nella vita Che veramente Vi mettono male Per tutta la vita E Non ne vale la pena Ora fatemi trovare Appunto Queste benedette domande E quindi Questo sì Tanti ragazzi Comunque anche Mi avevano detto Di non usare Determinate sostanze In determinati modi Eppure io L'ho fatto E quindi Questo forse Sarebbe il consiglio Che dovevo prendere In considerazione Cioè Che da giovani Si ha una testa diversa E quindi Le cose Poi cambiano Col tempo Racconfede Ciao Mi ti seguo da anni Lei me la ricordo Sì mi seguita tantissimo Le mie domande sono Come l'hanno presa Quando hanno scoperto Della tua dipendenza Che rapporto hai Con la tua famiglia E il tuo ragazzo Allora un bacio a te I miei genitori Hanno scoperto La mia dipendenza Praticamente subito Perché mia mamma Lavora in malattie infettive E comunque Lavora in un luogo Dove appunto Ha sempre fatto I conti Con persone Quindi La mia mamma Fin da subito Poi comunque Io con lei Ho sempre avuto Un bel rapporto Anche quando andavo A ballare Gli raccontavo Che c'erano i pasticchi Mangiava i pasticchi Io l'ho sempre Bene o male raccontata Un sacco di cose No Quindi Devo dire che Comunque La mia mamma Se ne è accorta Da subito Proprio perché Vedeva Determinati cambiamenti Io me l'hanno presa Di merda Cioè di merda Perché comunque Io penso Mi romperò denti Alla fine A forza di battercelo Comunque Di merda Perché vedere Una figlia Che si rovina Con le sue mani E non poter fare niente Carica È un problema Quindi come l'hanno presa È male Però comunque Sì mi sono sempre Stati vicino Hanno sempre cercato Di fare Il possibile Per starmi vicino Ma la cosa Comunque poi È diventata Veramente un problema Piano piano Negli anni La cosa è peggiorata Ed è diventata Sempre più ingestibile Quindi L'hanno presa così Il rapporto invece Con il mio ragazzo Che rapporto Con la famiglia Del tuo ragazzo Allora Inizialmente È molto buono Perché comunque Io sono una persona Molto tranquilla E poi comunque Penso che vedevano Che Io amavo Il loro figlio Quindi Purtroppo O invece Ora Ultimamente Il rapporto È un po' peggiorato Per il semplice fatto Che Io Ho visto Determinate cose In loro Che non mi sono andate bene Nel senso Quando avevamo bisogno Di una mano I miei ce l'hanno data E loro no E a me questa cosa Mi ha dato molto fastidio Anche perché Non dovevano aiutare me Ma dovevano aiutare Il loro figlio Cioè Quindi No Io non so Se è una questione Di mentalità Diversa Quindi no Però No Sinceramente Non mi interessa Anche perché Comunque sia Io Devo vivere con Alin E non con loro Cioè Devo stare con Alin E non con loro Gli porto comunque Un certo tipo di rispetto Io li porto rispetto Però Non sono una persona Che comunque sta zitta Quindi se vedo delle cose Che non stanno Né in cielo Né in terra Non è perché Te sei un genitore Non te le dico E questo forse a loro Da un po' fastidio Però Io sono molto tranquilla Molto pissellope Poi ultimamente Stiamo talmente bene Che a me non me ne può fregare Di meno Comunque il rapporto è buono Non è che Cioè Però Sinceramente Poi io ho sempre pensato Che Sempre stare nel nostro Cioè Ognuno deve stare nel suo Non so se mi spiego Non si può stare vicino Alle suocere Non si può stare vicino Come lui Non può stare vicino Alla mia Di suocera Cioè la sua Mi mamma È giusto Che ognuno di noi Abbiamo Devo farmi vedere Le tette Questo sia chiaro Io ho le tette Ora le devo mostrare E quindi questo è Comunque Il rapporto Non è malvagio Ma Insomma Domanda frivola Georgia Baker Fra tutti i fake Che hai comprato Qual è il migliore E il peggiore Domanda un po' così Il migliore È uno di quelli Che mi è arrivato Ultimamente E il peggiore È questa Pessima Il kit glow Di Anastasia Irene De Angeli Ciao Cami Ci fai vedere Le tue foto Su carta Di quando eri piccola Di quando andavi a ballare Come vi estimate Ti bacio Allora Purtroppo le foto Le ho Io ce l'avevo Ce l'avevo C'era un sacco Però le avevo In questo cassetto E sono state tolte Naturalmente Perché Filippo Sta adesso in camera Che bocce Esagerate Ma non potete capire Quello che è per me Vedermi queste puppe addosso E visto che appunto Filippo Ora abita In questa stanza Io le ho tolte Ecco E quindi sono Nei neandri Dei Nei neandri Delle scatole mie Quindi purtroppo Non le posso cercare Adesso Quando le troverò Comunque non vi preoccupate Che ve le mostrerò State tranquille Come vi ho mostrato Ecco Ecco Quando stasera Mi faccio una bella doccia Ve le mostrerò Sul seguirsi Del tempo Dai Quando le ritrovo Insomma Allora Andiamo avanti No Me l'ha zerato Susi Vanitas Io lo odio Questo Ciao Chica Ti seguo da sempre Da quando ti chiudevi In camera Tu e chiacchieravi Ore ore con noi Non smetterò mai di farlo Volevo sapere Anche se sarà un po' delicato Come domanda Perché tu Cugino vive a casa dei tuoi Semplicemente Perché mio cugino Era solo Ora è maggiorenne Ma comunque Mia zia è morta Quattro anni fa Di un intervento Perché aveva avuto Un aneurisma Gli anni è venuto un altro Era guarita dal primo Ma purtroppo voleva Togliere il secondo E Nell'operazione Non è andata bene Purtroppo mia zia Se n'è andata Mia zia era Il mio grandissimo sostegno Zia per me Era la cosa più importante Infatti Queste forbici Sono le sue Sono per lei E E lui Non avendo un padre Perché comunque Allora non è che non ha un padre Il padre ce l'ha Però non viveva con mia zia Non è che non ha un padre Un padre ce l'ha Però non viveva con mia zia Quindi lui viveva solo con mia zia E quindi È venuto a stare Da noi Tutto qua E quindi poi Oramai è comunque Maggiore N Quindi Silvia Caciolli Ciao carissima La tua esperienza di vita Quando sarai madre Ti porterà ad essere Un genitore più comprensivo Più permissivo Più severo Più severo Assolutamente Per il semplice fatto Che purtroppo Vedendo come mi sono comportata io Mia madre con me È sempre stata molto Permissiva Nel senso Più che permissiva Con me ci ha parlato Tantissimo Mia mamma Mi ha sempre dato un sacco di Di spazio Per parlare E comunque Io non sono mai stata Una figlia facile E comunque credo che Se io avrò un figlio Verrà Come noi no Cioè prenderà da me E da Aline Comunque se avremo un figlio Io e lui no Ora sì E quindi Sarò molto più severa Nel senso Allora sotto alcuni punti di vista Cercherò di parlarci Il più possibile Perché comunque Io credo che il dialogo Sia importantissimo Però Allo stesso tempo Purtroppo Ripetisco Quando sono certe Tanti capisce Il cazzo E quindi si deve Comunque avere Delle regole Io purtroppo Nel senso Non è che non me le hanno date Cioè Però forse Mi è stata data Un po' troppa libertà Ma non in maniera brutta Anzi Cioè Hanno pensato di darmi Un po' più di libertà Facendo del bene E poi io ripetisco Non ero una persona semplice Se comunque volevo una cosa La ottenevo Me ne andavo di casa Le facevo nere E quindi Sarò un genitore diverso Nel senso Innanzitutto Sarò un genitore Di un altro Di un altro Tipo di generazione A questo punto E spero comunque Di riuscire Ad avere un rapporto Diverso Con i miei figli Parlarci molto E comunque Spiegargli Determinate cose Quello sì Non farò degli errori Del tipo Tanti genitori Dicono no Genitori come me Che comunque Hanno avuto una vita Un po' particolare Preferisco Tutto lo facciamo a me No Gente mi dice Oh il mio figlio Lo fumera la nanna A me Non esiste Cioè Se fumera le nanna Me lo farò dire Però Lo metterò In guardia Anche sulle nanna Perché anche le nanna Hanno il loro Il loro perché E il loro problema Ora mi vorrei mettere Quel giacchetto Pelloso bianco Perché mi fa figa E one moment Ditemi se questo giacchetto Non mi fa faiga Però no dai Però sì Me lo sto mettendo Ultimamente Sappiate che me lo sto mettendo Quindi Sara B Ciao Cami Volevo chiederti Se hai il desiderio futuro Di avere figli Maschio o femmina E che nomi Ti piacerebbero E ti piacerebbero Per loro Allora Non so Se mi potrà piacere Ma se Io credo sia maschio Che femmina Non ho Sinceramente Non ho di questi Pensieri Ultimamente Perché Io ultimamente Non ho proprio il pensiero Dei figli Che è successo Ah C'ho la batteria Andata Non ho proprio il pensiero Dei figli Perché Boh Perché comunque È stato un periodo Della mia vita Un po' particolare Lo levo dai Se non Sembro ridicolo Cioè Non è che Sembro ridicolo Non mi piace Però Dovevo partire Con quel giacchetto Lì Allora Forse E quindi Niente Aspettate Dai Mi levo Sta cosa Ci ho fatta Allora In futuro Vorrai Se hai il desiderio Di futuro Di avere figli Allora Prima sì Ce l'avevo moltissimo Molto Ultimamente Mi è passato E vi spiego Perché Allora Tutto ciò Tutto ciò Quello che Ci è successo Non si dice Tutto quello Che ci è successo Nell'ultimo periodo Ha scatenato In me Una serie Di Di sentimenti E di Di sensazioni No Io comunque Comincio ad avere Quasi Quest'anno Anzi Per tre giorni Faccio 33 anni E La cosa Che comunque Mi preoccupa Di più È che Io mi sono sempre Detta che Oltre i 35 anni Non avrei fatto Figli più Perché Perché comunque Le persone come me Che hanno avuto Un certo stile di vita E hanno fatto Un determinato Tipo di errori Avranno Dei problemi Quando Saranno Più grandi Nel senso Lo stile di vita Causerà Dei problemi Molto Grossi Anche al fisico Ti causa Problemi al cuore Problemi alla circolazione E purtroppo Magari c'è gente Che arriva A 70 anni Tranquillamente Però purtroppo Ci sono anche persone Che magari Hanno una vita Più breve E magari può essere Non vero Ma è una cosa Che ho sempre pensato E quindi Ho paura Di andare Oltre i 35 anni E quindi Comunque Ora sto Talmente bene E sto Talmente Rielaborando La mia vita Che io sono Dell'idea Che fare figli Non è obbligatorio Se verrà Se saremo in grado E se avremo Principalmente Perché tante Mi hanno detto Ora penso a stare bene Quando un giorno In un video Ho parlato dei figli Qualcuno Mi ha scritto Adesso penso a stare bene E poi penserai ai figli Cioè Ma che te l'ha detto Cioè Io ho sempre detto Perché altrimenti L'avrei fatto un anno fa Come voi sapete Ho sempre detto Che un figlio Ha bisogno Delle basi Ha bisogno Dei pilastri immensi Sto registrando Nonna No ma non si mangia Io sono chiamata a porta Stai a mia nonna Silvana Mamma Dai mamma E Ci sono Delle cose primarie Lavoro Soldi Che non è vero Un figlio non ha bisogno Di soldi Un figlio ha bisogno D'amore No non è vero Ha bisogno Di soldi d'amore Quindi vedremo Come sarà la situazione Poi i nomi Mi piacerebbero Non mi piace i nomi normali I nomi troppo banali Non mi piacciono Oggi Te ne ero sentito Un che mi piaceva un sacco Ma avevo un quadernino Dove bene o male Me le ero scritti Un po' tutti Mi piace un sacco Liuba Che so che è un nome tedesco Allora Un'altra sita Va scritto Qual è la sostanza Che ti è piaciuta di più Io questo Non lo posso dire Ma non è che non lo posso dire Non lo voglio dire perché Voi dovete capire Che la mia dipendenza Il problema della mia dipendenza È stata Che io vi dovrei raccontare Delle cose Metodi di assunzione E altre cose Che non sono per niente belli Ma non perché Perché non sono belli Proprio ne da sentirsi Ne da vedersi Ne da sentirsi Quindi preferisco evitare Se lo sapete Ho avuto una dipendenza Basta Però una sostanza Mi è piaciuta di più A me le sostanze Mi sono sempre piaciute tutte E ogni sostanza Aveva il suo momento Ogni sostanza Aveva il suo perché Però Magari fatemi Vi farò un video apposito Soltanto sulle sostanze Poi Parlarvi della mia dipendenza Ve ne voglio E ve ne parlerò Come ve ne ho sempre parlato Comunque Ma Non fate domande Troppo specifiche Per il semplice fatto che È brutto Fidatevi Pinky Lady Ho la bellezza La mia domanda è Che fine ha fatto il tuo ex Vi sentite ogni tanto? Certo Io e Emanuele Ci sentiamo tuttora Ci vediamo tuttora Perché dopo 13 anni Di rapporto È impossibile Che delle persone Non si vedano più Anzi Abbiamo un bel rapporto Ci siamo visti Con Aline L'altro giorno Mi ha chiamato Aveva bisogno Di una cosa Io l'ho Cioè L'ho aiutato Perché è così Perché lui non mi farebbe Lo stesso E questo è bello Questo è bellissimo E mi piace E sono contenta Ciao Kami Morgens Term Ciao Kami Volevo chiederti Qual è il tuo più grande fallimento E il tuo più grande successo Allora Il mio più grande fallimento È stato La mia dipendenza Perché Una dipendenza Tante di voi Tante amiche mie Tante Mi dicano No Ah se io non avevo fatto questo Non ero la persona che ero Allora Io mi dispiace Bimbi Ma non la vedo così Cioè questo è vero Sì se non avrei fatto Non ero Ma Per me è stato un fallimento Perché comunque sia Io sono una persona senza limiti Sono una persona che Allora Chi non ha limiti Con le dipendenze Nella merda Perché comunque Te le È stato un fallimento Perché comunque Inizialmente Quando cominciai Come tutti Come tutti Dicevo Ma a me mi fa niente Ma io smetto Quando voglio Non è così E purtroppo Mi ha preso anche troppo Forse Ho rovinato Le persone che mi stavano intorno Ho rovinato le amicizie Ho rovinato tutto 15 anni di vita Buttati nel cesso E per me è un fallimento Ribadisco Ero in quel periodo Talmente Presa Che mi piaceva La mia vita E tutto quanto Però è un fallimento Perché comunque Ho perso un sacco di lavori Che Potevano essere Dei lavori buoni Lavori In cui potevo lavorare Tuttora Quindi il mio più grande fallimento È stata la mia dipendenza Il mio più grande successo È stato Il riuscire a capire Di uscire Da questa dipendenza Io per ora sono pulita Oramai da Quasi 4 mesi Sono contenta E Però Non dico che ho smesso Perché dire ho smesso Ci vuole 5, 6, 7, 8 anni Per aver smesso Io dico che sto pulita Sono contenta E per me È una grande gioia Però mi rendo conto Che non si sa mai Quello che succede nella vita Quindi Mi codo giorno per giorno E il mio più grande successo È aver capito con la testa Che ero A un livello brutto E quindi Questa cosa Mi ha portato A fare dei ragionamenti E secondo me Questa è la cosa più bella Dove trovi tutta questa forza Per andare avanti Ed essere così allegra? Questa è una cosa di carattere Cioè è una cosa caratteriale Io ho sempre visto il bicchiere Mezzo pieno Invece nel mezzo vuoto È una cosa di carattere Sì babbo lo so Arrivo 5 minuti È una cosa caratteriale Che non Che non so come faccio Però Secondo me Ce la potete fare tranquillamente Nel senso Se uno si Veramente dice Ti fermi a ragionare Che ti manca fondamentalmente Ci sono persone Che ti mancano delle cose Però allo stesso tempo Ne hai delle altre Quindi credo che Ognuno di noi Si debba un attimino Ragionare su questo E prendere la vita Nel migliore dei modi Poi O a riga Cioè C'è chi è muscio C'è chi È arzillo Cioè Quella è una cosa Caratteriale Però Voi dite C'ho tutta sta forza Ma io tutta sta forza Sei bellissimo Un bacione Per carità Gigi No Glory Ciao Cami La mia domanda è Sei mai pentita Ti sei mai pentita Di quello che sei Cioè Della tua vita Dei tuoi tatuaggi E dei tuoi piercing Spero vi risponderai PS6 Unica Un bacio Mi saluti Mi chiamo Gloria Un bacione Gloria Enorme Allora No Non mi sono mai pentita Dei miei tatuaggi Né dei miei piercing E tornassi indietro Le rifarei Tutti È il mio modo di essere Io così Mi piaccio Io così Sono me stessa Al momento che Io non sarò più Me stessa Così Prenderò Dei provvedimenti Ora I tatuaggi Non se ne vanno Nel senso I piercing Sì Al momento Che comunque Voglio cambiare Una persona Vuole cambiare I tatuaggi Ti restano Ma comunque Uno riesce A cambiare Anche Magari Il modo di vestire Io così Sto bene Mi sento me stessa E questa è la cosa Che mi conta più Per me È questa Allora Ciao Cami Sarina più Volevo chiederti Come stai Come va la tua vita Ora Allora Come sto Bene Io ora sto Bene E sono Serena E questa è la cosa Principale Come va la mia vita Ora Devo dire Che Sta andando Davvero bene Io non credevo Perché Tanta gente Comunque Di dove Non mi aveva dato Troppa fiducia Invece sono davvero Contentata I progressi Che ho fatto E dei pensieri Dove sono arrivata Con la testa Questo secondo me È importante Che progetti hai E cosa vorresti cambiare Nella tua vita Ho il progetto Di comunque Tornare a vivere Da sola E da lì Trovare Allora Io ora fino ad agosto Ho la disoccupazione E me la godo Non importa niente Io ora fino ad agosto Sono senza fare niente E mi godo La disoccupazione Poi mi troverò Un lavoretto Che comunque Ora avendo la disoccupazione Riesco comunque A mettere dei soldi Da parte Cioè io questo Lo vorrei farlo dare Perché la mia dipendenza Ci portava via Un sacco La mia La nostra dipendenza Ci portava via Un sacco di soldi Le dipendenze Tutte portano via I soldi E sappiatelo E non riesci a mettere soldi Da parte Fino ad agosto Poi troverò un lavoro E a quel punto Poi troverò Una casa E mi sistemerò Quella È il mio progetto È il progetto Che ho Comunque anche Di fare una famiglia Una casa Con Alin Questa è la cosa È il mio progetto Cambiare Cosa vorrei cambiare La mia vita Per adesso Niente Un bacio enorme Grazie Per il video Dell'Ubalda Cosa non ti rende serena Veronica G Allora Ora come ora Pensare veramente A tutti Gli sbagli Che si è fatto Mese indietro Cioè abbiamo fatto cose gravi Veramente Molto molto gravi E non avendole mai fatte Veramente Ho dei rimorsi Di coscienza Sui miei genitori Su altre cose Altre persone Che non Mamma mia Non potete capire Non potete capire E Cosa non mi rende felice Pensare Sto ancora elaborando La situazione di Axe La sto ancora elaborando Perché È il mio bambino È il mio bambino E quindi La cosa La sto elaborando Sempre di più Spero insomma Piano piano Di riuscire del tutto A elaborare Per questa cosa Ciao Cami Dani Daniela Se dovessi scegliere Un'altra città Dove vi debere Quale sarebbe Allora noi vorremmo Traslocare di qua E anche questo È un'idea E comunque Spostarci In una città Al nord Dove comunque Io come host Lavorerei molto di più E È vero che volevo Lavorare con youtube Ragazzi Però lavorare con youtube Vuol dire fare 1000 1500 euro al mese Altrimenti Fino a questo non è Non puoi Lavorare con youtube No E questo Mi costringe Già comunque A trovare un vero lavoro Però ci vorremmo Spostare al nord E addirittura Volevamo cambiare Proprio andare in Spagna O addirittura Si era detto L'Olanda Ma comunque Per adesso è presto È troppo presto Per fare Troppi pensieri Però sì In Alta Italia Mi piacerebbe Tornarci Roma È troppo Caotia E In Alta Italia Non lo so Tipo Bologna Non lo so Perché poi comunque Sono città dove Non ho mai vissuto Magari mi informerei Prima Irene Bartoli Ti volevo chiedere Qual è il lavoro Dei tuoi sogni E se c'è una cosa Nella tua vita E vorresti cambiare Un bacio Irene Allora cambiare L'ho già detto Per adesso Niente E il lavoro Della mia vita Io sono sincera Mi piacerebbe Moltissimo Fare la truccatrice Ma fare la truccatrice Seria Nel senso Sfilate Seria Una truccatrice Seria Che vivi Di lavoro Di truccatrice Non mi piacerebbe Comunque lavorare Da Sephora Perché ho un lavoro Di vendita Sephora Mac Per quanto sono Posti meravigliosi Dovresti vendere Oltre a truccare E io per la vendita Non ce so farica Come stai? Melissa Ho già risposto Ciao Hami Susi Unicorn Volevo chiedere Se dopo l'esperienza Con Axe Ha intenzione Di prendere Un altro cane E poi Se ti volevo chiedere Se ti volevi sposare O no Allora Sì Noi vogliamo Prendere Un altro cucciolo E Io lo vorrei Adottare Un altro Anche perché Ho imparato Tante cose Purtroppo Lo so Però Ho imparato Tantissime cose Però Alin Non è molto D'accordo Di questa cosa Però Sì Prenderemo un cane Ma lo prenderemo Molto più qua Per una serie Di motivi Anche questo Perché il cane Lo sapete Ha bisogno Di tante cose E deve essere Il fulcro Proprio Del nostro Amore Lui deve essere Il fulcro E quindi Quando avremo La possibilità Di stare da soli Matrimonio Il matrimonio Io non sono Per niente Convinta Del matrimonio Perché secondo me Il matrimonio È un pezzo Di carta Fondamentalmente Uno si sposa Perché Più che altro Se ha dei figli Però chissà Mai dire mai La mia Giulina Mancini Troiaio di donna Quando mi viene A trovare Allora Cara Giulia Io e la Vina Sarà pensato Di venire a Torino Un giorno A trovarti Quindi ci organizzeremo E veniamo a trovarti Cinzia Mi dei Ti seguo Mi piaci Qual è il tuo sogno Nel cassetto Quello di riuscire Ad avere Una vita Comunque serena Luna Nera Ciao Cami Bentornata Hai mai pensato Di andare a vivere All'estero Sì Come ho già risposto Cosa ne pensi Al riguardo Ho già risposto C'è una nazione Che ti piace Io pensavo La Spagna Perché a me piace Il caldo Mi piace Il mare Il caldo Avevo pensato Anche alle Canarie Però so che Adesso ci va Un sacco di gente Alle Canarie Un sacco di italiani E non vorrei Che da questa cosa Appunto Non vorrei Ma hanno detto Che c'è molto Meno lavoro Rispetto Perché un giorno Mi direi Perché per lei È un argomento Importante Un bacio L'ultimo E poi si va A mangiare E poi vediamo Se è Altrimenti vi faccio Due pezzi Di Ask Camilla Peppino Andolina Hai mai brindare Con lo spumante Ad qualche evento Hai mai brindato Con lo spumante Ad qualche evento Penso che sì Anna Romanelli Andresti mai Grande fratello Allora Ci andrei Perché comunque È un'esperienza Che ci può piacere Ma bestemmio E dopo cinque minuti Buttano fuori E non lo so Quanto Non so adatta Dai Invece Non so il tipo D'andare Grande fratello Comunque Cosa ne pensi Di Alessandra Morosa Emma Marrone Non penso Emma mi piace Comunque Perché mi sembra Una donna Abbastanza in gamba Però Alessandra Moroso Sinceramente Neanche Un'altra domanda Hai un modo Di parlare A dir Poi Melaviglioso E poi scrivi Un abbreviato Ma tanto abbreviato Sì Scrivo così Perché Ma mi importa Una sega Se io su youtube Mi devo mettere a fatemi Prossimo Virzing Io mi vorrei fare questo Aline me lo sta bocciando Ma Vedrete che un giorno Di vesti Lo vedete L'ultima Dai Cami ti seguo Elena Faidan Da quando hai aperto Com'è cambiato Com'è la Camilla di oggi Che è cambiata Rispetto alla Camilla di ieri Allora Bella domanda La Camilla di oggi Cerca di essere Molto più riflessiva E Cerca comunque Questa è una cosa Un po' particolare Però è così Cerca comunque Di far sì Che le persone Che gli stanno a fianco Non la reputino Un peso Ma Siano orgogliosi Di lei Io Non ho mai reso I miei genitori Orgogliosi di me Né a scuola Sono stata veramente Una pessima figlia Sotto questi punti di vista E secondo me Ora come ora Rendere orgogliosi I miei genitori È una grandissima cosa La Camilla di ieri Ero molto più Me ne fregista Non me ne fregavo A un cazzo di niente Non pensavo a niente E invece adesso Sto cominciando a pensare A un sacco di cose Sto cominciando a pensare Come Far sì che la Camilla di oggi Riesca a stare Veramente bene E questo Volevo rispondere Ma mi sa che Che palle Ma è scorso Lei ce n'aveva un'altra Allora Cosa ti aspetti Da ora in poi Da te stessa Di essere forte E continuare Per la mia strada Di riuscire A vivere Veramente Con le palle Perché voi non so Se lo sapete Io penso Che chi ha una dipendenza Siamo le persone Più senza palle Che esistono al mondo Perché non affrontiamo La vita E le vere emozioni Veramente Perché te sei sempre fatto Sei sempre fuori di testa E te le vere emozioni Non le affronti Quindi sei un uomo di merda Una donna di merda C'è poco da fare Io voglio riuscire A vivere la mia vita In maniera Vera In maniera vera E Senza Mezzi scorciatoi Diciamo così Dai Vimo con l'ora Vado a mangiare Perché altrimenti Mi secano le gambe Io vi mando un grande bacio Siamo a mezz'ora di video Io vi faccio più ask Vi adoro Siete il mio più grande sostegno Fate bravi Spippeggiate poco Ciao my love